Oggi io e Teo vi presenteremo una bellissima Una Hyundai Tucson con allestimento X-Possible 1.7 di cilindrata, 140 cavalli Alimentazione diesel Si tratta di un veicolo usato garantito E come tutte le nostre autovetture ha superato il test di 150 punti di controllo Svolto dai nostri Automotive Expert Elegantissima in questo colore bronzo Bellissima la forma del gruppo ottico E i fari sono full LED Molto bella la mascherina con i dettagli e il logo cromati E sono presenti i sensori anteriori I cerchi sono in lega Da 19 pollici con il bellissimo marchio Hyundai nel mezzo Lateralmente la forma è molto dinamica Bellissimi i dettagli bicolor degli specchietti Le bordature cromate inferiori dei finestrini E sono presenti anche le barre al tetto Sul posteriore troviamo i sensori di parcheggio E la retrocamera Per un'auto veramente hashtag super safe Passiamo ora alla parte posteriore dove il nostro Teo ci sta già aspettando Comunità sulla seduta con questa bellissima trama Attacchi Isofix e nel mezzo un comodissimo bracciolo con all'interno due vani portabevande Come potete vedere è veramente spazioso Comodissima anche la tasca a porta oggetti Ed inoltre il tunnel centrale è rialzato davvero pochissimo Per permettere un viaggio agevole a tutti i passeggeri E che figata si possono riscaldare anche i sedili posteriori Ti ho appena scoperto Che c'è la chiusura bambini Passiamo ora agli interni anteriori Guardate che comodità l'apertura Achilles dentro c'è Ma basta hai rotto le balle Vai via ti fai trovare in tutte le auto Il display è in parte digitale La plancia ha le forme bombate ma eleganti Passiamo ora ai tasti al volante Sul lato destro il corriscontro per inserire il limitatore di velocità e la velocità di crociera Sulla parte invece a sinistra i tasti per poter effettuare le chiamate collegando il vostro dispositivo via bluetooth all'autovettura Tasti per aumentare e diminuire il volume e per mettere in muto E ora la cosa più importante L'accensione Col tasto Start Stop Engine E da qui possiamo vedere che ha percorso 79.000 km Ed ora passiamo all'infotainment dell'autovettura con le diverse funzioni Qui troviamo tutte le impostazioni di base Radio La gestione di fai multimediali Il navigatore Dove potrai salvare le tappe quotidiane a lunghi viaggi E la possibilità di collegare il tuo telefono via bluetooth all'autovettura Oppure con cavo USB Più sotto troviamo il climatizzatore con questo comodissimo schermo digitale Ed è V-Zona Inoltre i sedili saranno riscaldabili Due caricatori 12 volt per ricaricare i vostri dispositivi Un ingresso USB per gestire i tuoi file multimediali E un ingresso per auricolare Al centro invece possiamo trovare una serie di com divani, portoggetti, portabibite Il cambio che è automatico Ricordarsi sempre di lasciarlo in PC durante l'accensione con lo spegnimento dell'auto Freno a mano Sensori parcheggio Tasto per abilitare e disabilitare lo start and stop E thrash on control Bellissima sorpresa Questa è davvero una bellissima sorpresa Il tettuccio full sky L'apertura semplicissima grazie a questo tasto E la chiusura ha tentato semplice E poi perché gli optional non bastano mai Anche un comodo vano per gli occhiali da sole E con questi bellissimi parasole Allungabili Se quest'auto piena di optional ti è piaciuta allora Vai subito sul nostro sito rattiauto.com E potrai bloccare la tua auto con soli 100 euro Senza impegno oppure prenotare una video call con i nostri sale Oppure la portiamo direttamente a casa tua In tutta Italia in soli 7 giorni con garanzia europea e igienizzazione Hai sempre 14 giorni per il recesso E seguici su tutti i nostri social Noi ci vediamo alla prossima auto Ciao